Buonasera, sono Barbara Palambelli. Ho visto questo film, La ragione dell'Aragosta, perché come sapete io mi interesso moltissimo al cinema italiano, però in questo caso, secondo me, è un film molto poco italiano, perché ragione non è una parola italiana e Aragosta è una parola francese, quindi secondo me non dovrebbe avere la nazionalità italiana e nemmeno il premio governativo italiano, ne parlavo con Francesco. Grazie a tutti.